La parola all'onorevole Francesco Lollobrigida, capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera. Non utilità se riescono a essere collante di una classe dirigente che si occupa specificatamente di alcuni argomenti, riescono a essere cinghia di trasmissione delle esigenze del rapporto con le categorie, con quell'utenza che diventa funzionale alla costruzione di proposte politiche, ma anche perché è riuscito poi a trasformare il Dipartimento in una fucina complessa nella quale si portano a sintesi proposte che in Parlamento vengono poi accompagnate dal prezioso lavoro. E lo dico, del collega per esempio Riccardo Zucconi che in questi anni di collaborazione con Gianluca Caramanna ha trasformato in testi di legge quelle che erano le proposte che venivano dal territorio. A me spesso, caro Luca, ti ringrazio a te per competenza, ovviamente a tutti gli amici che ci ospitano qui a Napoli, le tante proposte che poi vengono lette spesso nelle sale da coloro che fanno parte delle categorie interessate e ci dicono ma la pensate come noi, è certo, l'avete scritta voi, le cose che noi portiamo in Parlamento in un virtuoso rapporto nel quale in termini di sussidiarietà noi acquisiamo il know-how che viene proposto da coloro che conoscono la materia, la interpretano, addirittura ci troviamo ad avere in Parlamento persone che sono prima professionalmente impegnate in questi settori e quindi diventano immediatamente empatici rispetto alle categorie di riferimento ma traiamo da loro gli spunti come dal resto dei pezzi della società per poi provare a rendere utile la politica come capace di fare sintesi quindi di fare proposte, diventare utile, questa è l'esigenza che i cittadini hanno nei confronti di chi pagano in Parlamento io credo che questo virtuoso lavoro sia stato realizzato grazie anche a questi laboratori che Fratelli Italia ha messo in piedi per superare quella incompetenza complessiva che sembrava prevalere nella ventata di novità rappresentata dal Movimento 5 Stelle in cui ognuno vale uno e nulla ha senso in termini di professionalità e di preparazione noi diciamo il contrario, l'onestà è una precondizione per fare politica, se sei disonesto devi andare in galera, non devi fare politica ma l'onestà in quanto tale non serve a realizzare niente, servono le capacità, servono il merito, servono le competenze in un settore specifico come quello del turismo le competenze sono essenziali la capacità di conoscere quali sono le opportunità, in Italia esistono, la natura ce le ha date, esistono i monti, la neogastronomia, esiste il mare ma poi serve la capacità di coniugarle con il modo di metterle a rendita perché noi ci accorgiamo che nella divaricazione numerica che esiste tra città e città prima veniva citata da Luca la differenza che c'è tra Napoli e Milano e Napoli e Milano sono due straordinarie città ma certamente Napoli non è seconda a Milano in capacità di offerte, allora se quei numeri sono così penalizzanti ci deve essere una ragione che abbiamo approfondito ed è legata alle infrastrutture che non sono solamente infrastrutture trasportistiche che sono importanti ma in materia di sicurezza, lo ricordava Andrea Santoro prima in apertura un turista deve essere certo perché noi siamo turisti quando ci richiamo all'est che cosa vogliamo? Vogliamo stare bene, vogliamo arrivare velocemente, vogliamo non rischiare niente i turisti di tutto il mondo vogliono le stesse cose quando sognano e ambiscono a venire in Italia ma poi magari si fermano e decidono di seguire altre mete perché sono più irraggiungibili, più semplici e sono i temi, lo dico con chiarezza, trattati dai nostri assessori quotidianamente da chi per esempio li ha coniugati come l'assessore Berrino nei cinque anni di governo virtuoso della Liguria che ci ha permesso di rivincere con una sintesi tra l'assessorato ai trasporti e l'assessorato al turismo che lo ha messo in condizione di valutare i due ambiti e lavorare con una crescita costante dell'attrattività così come gli altri assessori che hanno scelto queste deleghe, scelte, Fratelli Italia ha fatto la scelta di chiedere che nelle giunte anche se la materia del turismo non è la più ricca, non è la più utile a portare consenso non è la più utile a fare clientela perché il mondo del turismo si è organizzato a grandi qualità ma certamente non è un blocco sociale di riferimento al quale il giorno delle elezioni tu chiedi le preferenze non è quello che può ambire a rappresentare il mondo del turismo, è un patrimonio un patrimonio che per Fratelli Italia è una pedina essenziale e fondamentale per la ricostruzione di una nazione ricca quale può essere l'Italia che può basare la sua crescita su questo e allora noi abbiamo chiesto le deleghe in Sicilia, le abbiamo chieste in Calabria, le abbiamo chieste in Lombardia le abbiamo chieste in Liguria, le abbiamo tenute dove non potevamo esprimere l'assessore nella regione Marche dove il nostro presidente Acquaroli ha detto di turismo nelle Marche me ne occupo io perché la nostra è una regione che ha bisogno di rilancio e voglio in prima persona occuparmi di questo settore e abbiamo chiesto di rappresentare le regioni italiane nell'Enit questa macchina che purtroppo in assenza del ministero del turismo negli ultimi anni è stata latente non si è sentita la presenza dell'Enit, che cos'è l'Enit? l'ente nazionale di promozione del turismo, una cosa nobile inventata tanti tempi fa da chi aveva la saggezza per immaginare una promozione complessiva del sistema e che in questi anni è stato invece quello oggetto di spesa superfluo e spesso di clientelismo purtroppo senza invece delle valutazioni attente di quelle che devono essere le competenze, che sofferenza quando uno va in giro per il mondo e nelle fiere internazionali trova una promozione disorganica del patrimonio nazionale che si afferma nei banchetti delle regioni quindi tu vedi la nobile regione del Molise piuttosto che l'importante regione Lombardia promuoversi all'estero di fronte a un giapponese che a mala pena conosce l'esistenza della capitale d'Italia e che ha necessità di invece vivere il marchio Italia come promozione complessiva che solo un stimolo differente da quello che c'è stato in questi anni si può avere ed è per questo che oggi Pappalardo è assente, è stato confermato con grande fatica nell'Enit speriamo che dopo i disastri di Franceschini che ha provato a modificare, a moltiplicare le poltrone dell'Enit a occupare gli spazi senza mai farla partire, si riesca a partire per una promozione coordinata con un ministero il ministero del turismo, pensate una battaglia storica, noi non abbiamo mai votato la distribuzione delle deleghe in Parlamento sempre motivando il nostro voto contrario nella ripartizione delle deleghe, Riccardo lo sa, perché non c'era il ministero del turismo ritenevamo ridicolo nel governo giallo-verde mettere il ministero del turismo, le deleghe per il turismo insieme all'agricoltura altrettanto importante ma che ovviamente avrebbe fagocitato l'interesse del ministro pur essendo una persona che veniva da questo mondo ed in effetti si è occupato più ovviamente dell'agricoltura che del turismo che è passato in secondo piano, il turismo non può essere in secondo piano ed è per questo che abbiamo apprezzato e sostenuto, devo dire, la scelta del governo Draghi di restituire all'Italia un ministero del turismo, purtroppo un ministero debole ci siamo presentati al ministro Caravaglia subito con i nostri cinque assessori competenti dicendo noi siamo opposizione, non chiediamo niente se non la possibilità di collaborare e ci mettiamo a disposizione, l'abbiamo fatti per primi, così come è stato durante la pandemia quando con Marcello Gemmato ci regamo la prima volta da Conte, convocati nella cabina di regia straordinaria il giorno del blocco dei voli dalla Cina, noi dicemmo siamo a disposizione per aiutare sull'emergenza, sulla pandemia, ma attenzione Presidente Conte, oggi lei non si deve preoccupare solo del virus, si deve preoccupare di quello che sta per accadere perché oggi con quegli aerei provenienti dalla Cina si ferma il turismo in Italia, si ferma il turismo in Italia e si ferma tutta la filiera e cominciamo a ragionare di come sostenere le aziende, lo chiedemmo immediatamente e subito dopo due settimane incontrammo online la FIAVET, Federalberghi, Confcommercio, tutti i rappresentanti del mondo del turismo e ci troviamo spiazzati quando ci dissero siete gli unici che ci hanno incontrati, ma come? Siamo una forza di opposizione, siamo il partito più piccolo in Parlamento e noi dobbiamo chiedere a voi di che cosa avete bisogno, lo abbiamo fatto come avevamo fatto in passato considerando normale che potessimo essere d'aiuto e invece siamo stati gli unici di stimolo a un ministero, non perché Franceschini è incapace, Franceschini è un ministro capacissimo, ma non aveva alcuna dimestichezza con la materia del turismo, si occupava probabilmente con più interesse di cultura, di altre materie, ma non attenzionava il turismo, tant'è vero che l'unico provvedimento che noi abbiamo contestato fin dal primo giorno quando i nostri albergatori, le nostre imprese turistiche avevano bisogno di liquidità si parlava di voucher, un meccanismo farraginoso che è fallito ma gliel'abbiamo detto in anticipo e non l'abbiamo inventato quando gliel'abbiamo detto, ce l'avevano detto già gli albergatori, non funzionerà un meccanismo di questo genere e allora sono state soffocate in questi mesi le aziende, Draghi ha detto il turismo ripartirà, eh sì certo, figuriamoci, mica ci tolgono il Colosseo, mica chiudono il mare, ripartirà certamente ma ripartirà con il turismo l'impresa italiana o le imprese chiuderanno nel frattempo che verranno a mancare la liquidità e magari arriveranno le cartelle esattoriali, arriveranno le tasse, un'altra questione che abbiamo proposto e imposto ancora oggi, le preoccupazioni di un'azienda, ma tu devi dare certezze sulla sospensione delle tasse, se uno non guadagna non può pagare, è una cosa banale, se uno ha costi fissi glieli devi coprire, se no è costretto a chiudere, a licenziare e se tu gli imponi di bloccare i licenziamenti, quello l'azienda la chiude lo stesso perché non può affamare la propria famiglia e se non ha soldi non può pagare, cose banali, dire sempre la verità, uno degli elementi che Fratelli Italia si è data come regola e la grande soddisfazione è che ci viene riconosciuto, ci viene riconosciuto oggi ma ci viene riconosciuto nei bar, nei ristoranti, tra gli albergatori, tra i balneari, tra quelli che magari non ci hanno mai pensato in termini elettorali, non hanno mai pensato di votare a destra, ma che oggi dicono siete gli unici, che dicono le cose come stanno e rivedo, le cose come stanno sono solamente la lettura della realtà e delle potenziali soluzioni, quali sono a mio avviso e qui concludo le potenziali soluzioni, intanto non fare follie, oggi un'altra follia in corso in questi giorni è la dichiarazione dello stato di emergenza, una follia che non serve a niente perché lo stato di emergenza si ha quando tu guardi il Vesuvio e lo vedi eruttare ed è un'emergenza, quando c'è un virus che improvvisamente si espande e in quei 20 giorni proclami lo stato di emergenza, sospendi la democrazia, sospendi le regole che ti sei dato, poi l'emergenza finisce, si apre un'altra fase, qui la fase della pandemia come ricorda spesso Marcello Gemmate è sostituita dalla sindemia, da un insieme di fattori di natura sanitaria ma anche economica che ormai abbiamo considerato la normalità, non sappiamo per quanti anni oggi la variante delta comporta un allarme che potrebbe produrre nei prossimi mesi alcune criticità che noi dovremmo imparare a sopportare, lo stato di emergenza è un grande cartello che noi mettiamo davanti agli occhi del mondo per dire non venite in Italia e non vi diciamo nemmeno fino a quando perché l'Italia è un paese pericoloso, se tu dovessi partire per una nazione e ti dicessi che una nazione è stato di emergenza tu dici ma io non ci vado perché sono preoccupato di quello che accade, è una follia dal punto di vista costituzionale ed è una follia anche dal punto di vista promozionale e quindi oggi a mio avviso noi dobbiamo prevedere quello che accadrà, diceva il Presidente Bocca di Federalberghi che i dati sono disastrosi, certo dire rispetto all'altro anno le cose vanno meglio, grazie, 50% in meno non è un dato drammatico rispetto al 2019, l'80% in meno delle città d'arte non è un dato drammatico, io credo che sia quello il dato da considerare, che cosa va fatto? Bisogna agire sulla prima leva, la difesa delle nostre aziende, dall'attacco della criminalità che sta comprando in liquidazione tanti 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 tante tante imprese italiane dall'aggressione straniera che sta investendo in termini di fondi, comprando a strozzo dai nostri albergatori, dai nostri ristoratori, difenderli con la liquidità, con la copertura delle spese, va fatto immediatamente ma anche con una prospettiva, si diceva prima, di fiscalità di vantaggio, bisogna dire ai nostri imprenditori resisti, oggi magari non guadagni, vai in paro, salvaguardi l'azienda, magari dovrai attingere al tuo conto in banca togliendo ancora soldi alla tua famiglia ma potrai recuperarli, perché questo Stato a cui tu non hai chiesto mai niente, dato l'opportunità di offrire lavoro, ti proteggerà e dopo ti incentiverà, come? Cercando di agire sulla leva fiscale, perché è quello che si può fare, poi c'è una promozione che deve tornare ad essere unitaria, deve tornare ad essere nazionale di questo patrimonio infinito che abbiamo per valorizzarlo e poi l'occasione del PNRR, a nostro avviso è un'occasione persa dal punto di vista del turismo, cercheremo ancora oggi di sollecitare il Presidente Draghi che non è certamente uno scemo e che quindi è persona che capisce l'importanza di questo segmento, a rivedere se possibile nella contrattazione con l'Europa questo piano, cercando di sviluppare magari quegli elementi che sono stati prima sottolineati, che fanno della nostra nazione una nazione che ha bisogno di un'infrastrutturazione unitaria, che renda veloce il trasferimento, con tante possibilità di accesso, una delle quali il crocerismo dal mare, per esempio si diceva che le navi non sono una risorsa, le navi sono una grande risorsa, in quattro anni Civitavecchia, dico una, è diventato il primo porto del Mediterraneo spuntando sul crocerismo, ormai sono delle città viaggianti, uno dice come fai a portare i turisti, quante aerei ci vogliono per mettere una nave MSC che arriva in un porto e ti fa sbarcare 5, 6, 10.000 persone in una sola giornata, dobbiamo investire su tutti questi settori, lo possiamo fare con un confronto, Fratelli Italia si candida ad essere ancora oggi il partito della realtà, del pragmatismo di coloro che guardando all'Italia ne fanno un insieme di segmenti che vanno tenuti fortemente ancorati a una visione di patria che a nostro avviso stiamo interpretando al meglio, non ce lo diciamo da solo, ce lo dicono gli elettori ogni volta che si voti. Siamo a Napoli, chiudo con l'invito e l'augurio ovviamente in questa città che è il simbolo di Fratelli Italia che sarà presente sulla scheda qui a Napoli possa rappresentare queste idee, a chi piacciono daremo la possibilità di votarle, saremo contributori attivi della rinascita di Neapolis dopo il crollo di Partenove, la rinascita di questa città, la vita è svilupparsi da mille punti di vista e ne fece la capitale del sud, bene noi sappiamo che questa può essere una delle capitali mondiali, l'Italia ne ha tante di capitali dal punto di vista del turismo, una sola dal punto di vista ovviamente nazionale ma sarà la nostra capacità di rilanciare anche qui a Napoli, terra che alla destra ha dato tanto, la possibilità di renderla nuovamente protagonista. In bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie.